Rieccoci, studenti di Seconda C, con le tanto agognate video-lezioni di storia. Stiamo affrontando il capitolo appassionante delle scoperte geografiche, il cui sottotitolo è I confini del mondo si allargano, e l'abbiamo già visto diffusamente. L'argomento di oggi è l'impresa di Colombo, buscara e levante pure il ponente. Prima di vedere il significato di questa frase in spagnolo, vi dico che siamo al capitolo 3, ovviamente, e che questa lezione, questa video-lezione, corrisponde alle pagine 57, 58, 59 e 60 del vostro libro. Cosa significa questo? Che la video-lezione sarà divisa in cinque punti, l'intuizione di Toscanelli, il progetto di Cristoforo Colombo, la grande impresa, l'errata convenzione di essere giunto nelle Indie, e poi i viaggi successivi. Bene, questi cinque punti, in cui è suddivisa la video-lezione, corrispondono ai cinque paragrafi del libro che sono da studiare. I titoli sono gli stessi, e anche le frasi che metterò in questo video sono prese dal libro. Quindi le frasi che io metto in questa video-lezione sono come le frasi da sottolineare sul libro. Le ho prese pari pari dal libro. E, ripeto, i cinque punti di questa lezione, i cinque titoli, corrispondono ai titoli del libro. Questo per dire che la video-lezione segue fedelmente il libro in modo che possiate essere facilitati nel riprendere lo studio sul libro. Infatti, io, in questa video-lezione, dirò alcune cose che ci sono sul libro, ma non tutte quelle che ci sono sul libro, e, al contrario, dirò anche alcune cose che sul libro non ci sono. Quindi dirò qualcosa in meno, ma anche qualcosa in più rispetto a quello che c'è sul libro. Bene. Veniamo alla frase con cui abbiamo introdotto la lezione. L'impresa di Colombo, Buscar e Levante pro il ponente, cosa significa? Significa esattamente quello che mostra questa immagine, ovvero il tentativo di raggiungere le Indie, di raggiungere l'Asia, dall'Europa, in particolare dal Portogallo, dalla Spagna, non andando verso Oriente, come sembrerebbe più naturale, bensì andando verso Occidente. Buscar e Levante, cioè trovare l'Oriente, porre il ponente per l'Occidente, attraverso l'Occidente. Quindi, per arrivare a Oriente, andare verso Occidente, perché, sapendo che la Terra è tonda, pensano, gli europei iniziano a pensare di poter circunnavigare la Terra e quindi dall'Europa andare in Asia andando verso Occidente. In questi decenni, l'abbiamo già visto bene, per arrivare alle Indie, visto che Costantinopoli era stata conquistata, gli esploratori portoghesi avevano già circunnavigato l'Africa. Bene, il nuovo tentativo è esattamente questo, dall'Europa andare in Asia andando non verso Sud, cioè l'Africa, circunnavigando l'Africa, ma verso Occidente. Evidentemente questa nuova rotta porterà alla scoperta di un continente in mezzo all'Europa e all'Asia che prima non sapeva che ci fosse. Non si sapeva che ci fosse. L'intuizione di Toscanelli. Chi è il primo che ha questa intuizione di provare a circunnavigare il pianeta, di andare a est, passando dall'ovest? Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che è un astronomo fiorentino, che aveva studiato la circonferenza terrestre e aveva elaborato un progetto rivoluzionario. Appunto, come dicevamo, a suo parere sarebbe stato possibile raggiungere le Indie, cioè l'Asia, navigando verso Occidente. In realtà poi nei suoi calcoli c'era un errore. Infatti aveva stimato la circonferenza della Terra molto più piccola di quella che è in realtà. Colombo, per certi versi, è stato fortunato. Se non ci fosse stata l'America, non sarebbe mai arrivato vivo in Asia. I suoi calcoli prevedevano un viaggio di più o meno 4.000 km, invece ne doveva contare 16.000. Insomma, i calcoli di Toscanelli erano sbagliati, però è il primo che suggerisce questa ipotesi. Possibile che si possa arrivare a Oriente, passando dall'Occidente? Il progetto di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo era un marinaio genovese che aveva maturato una grande esperienza di navigazione, soprattutto di navigazione a lungo raggio, su lunghe tratte, perché aveva percorso le rotte che portavano da Lisbona alla Gran Bretagna e fino anche alla lontana Islanda, quindi, ripeto, era esperto in navigazioni di lungo corso, di lunghe tratte. Era animato da una grande ambizione e dal desiderio di spingersi dove nessuno aveva mai osato. Dunque, egli studiò per anni le carte di Toscanelli, del geografo di prima, e le relazioni di famosi geografi, arrivando a convingersi che tale impresa fosse possibile. Per ottenere i finanziamenti per questa impresa, dopo essere stato rifiutato dal re di Portogallo, Cristoforo Colombo si rivolge ai sovrani di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, sovrani appunto di Spagna, famosi anche come i re cattolici per la loro fede. Perché Cristoforo Colombo chiede proprio a questi due personaggi, non solo perché erano dei re ricchi e potenti, ma dobbiamo guardare al contesto storico. Siamo nel 1492. Il 1492, come vi ricorderete bene, è l'anno della morte di Lorenzo il Magnifico a Firenze, è l'anno ovviamente della scoperta dell'America, ma è anche l'anno della fine della Reconchista, è l'anno in cui viene portata a compimento la Reconchista. Se vi ricordate, cos'è la Reconchista? La Reconchista è quella lunga guerra con cui il popolo spagnolo caccia gli arabi musulmani dal suo territorio. Vediamo in questo bellissimo quadro proprio Ferdinando e Isabella che fronteggiano l'esercito arabo che pone la sua resa. Nel 1492, infatti, gli spagnoli riescono a cacciare da Granada, che era l'ultima roccaforte degli arabi, gli invasori. Quindi c'è un clima di grande festa, c'è un clima di grande speranza, di grande gioia e anche un intenso spirito religioso. Questi due re si sentono, questo re e questa regina, si sentono portatori della civiltà cristiana, hanno liberato la Spagna dai mori, dai musulmani, in nome di Cristo. Dunque cosa fa Colombo? Si reca alla loro reggia, come vediamo anche in quest'altro bellissimo quadro, vediamo inquadrati anche Isabella e Ferdinando che lo ascoltano, e propone loro il suo progetto. Vedete anche un cartografo con... Dov'è il mio mouse? Vabbè, non si vede. Alla sinistra di Colombo vedete anche un cartografo con una carta in mano. Bene, Colombo propone a questi due re questa impresa apparentemente folle, promettendogli due cose. Innanzitutto grandi ricchezze. Gli promette che compiere questo viaggio fino alle Indie gli permetterà di istituire un grande impero commerciale, di aumentare quindi molto le proprie ricchezze. E secondo punto, questa ricchezza avrebbe permesso ai due sovrani di realizzare un loro grande desiderio, ovvero la possibilità di una nuova crociata. Come abbiamo detto, erano molto cattolici questi due re, molto cristiani, e quindi dopo aver cacciato gli arabi dalla Spagna, era sorto in loro desiderio di riconquistare Gerusalemme e i luoghi della vita di Gesù con una nuova crociata. Vi ricordate le crociate che abbiamo studiato l'anno scorso. A testimonianza di questo buon rapporto che c'è fra Cristoforo Colombo e i sovrani di Spagna leggiamo una bellissima lettera che Cristoforo Colombo scrive da Cadice o da Siviglia nel gennaio del 1492, quindi qualche mese prima di partire. La leggiamo perché ci dice tantissimo su la mentalità di quest'uomo e il desiderio che ha mosso questi viaggi. Eccellentissimi re, in giovanissima età cominciai a navigare e continuo ancora oggi. Questa stessa arte induce chi la segue a desiderare di conoscere i segreti di questo mondo. Sono già più di 40 anni che io la pratico. Ho percorso tutte le rotte conosciute. Ho avuto rapporti e conversazioni con gente dotta ecclesiastici e laici, latini e greci, ibrei e saraceni e con molti altri di altre razze. A questa inclinazione trovai il nostro Signore assai propizio, sicché da Lui mi venne spirito di intelligenza. Nella marineria mi fece provetto, in astrologia mi dotò di quanto bastava e così nella geometria e nell'aritmetica e mi diede ingegno nell'anima e mani per disegnare la sfera con le città, i fiumi, i monti, le isole e i porti, tutti al loro posto. Innanzitutto vedete evidenziato in rosso il desiderio di conoscere i segreti di questo mondo che ci ricorda qualcosa, giusto? E ho evidenziato in grassetto anche la sfera per indicare che si sapeva benissimo che la Terra era tonda e ormai c'erano studi su studi al riguardo. Ma la lettera va avanti. In questo periodo io ho visto e mi sono proposto di vedere tutti i documenti di cosmografia, storia, cronache, filosofia e altre arti alle quali Nostro Signore mi aprì l'intelletto per manifestarmi che era possibile navigare da qui alle Indie e mi diede volontà per l'esecuzione di tale progetto. È con questo fuoco che venni dalle vostre altezze. Tutti quelli che seppero della mia impresa con risa la rispinsero burlandosene. Soltanto nelle vostre altezze trovai fede e costanza chi dubita che questa fiamma che era in me non venisse dallo Spirito Santo? Miracolo chiarissimo volle fare Nostro Signore con questa impresa delle Indie per indurre me e altri a quest'altra impresa del Santo Sepolcro. Innanzitutto ci tengo a sottolineare questo desiderio questa anima non piccina che muove Cristoforo Colombo questo desiderio di conoscere i segreti del mondo e questo fuoco che lui sente nell'animo che lo spinge a questi viaggi e che lui pensa essergli addirittura portato indotto dallo Spirito Santo dice è lo Spirito Santo che mi ispira a questo viaggio a questo viaggio a questo viaggio